. Barcellona-Juve, le formazioni ufficiali, giocano Bentancur e De Sciglio . Notte di fuoco al Camp Nou, notte di Barcellona-Juventus. Il gruppo di The Champions League apre con botto, con una super sfida tutta da seguire. Ore 20.45 per il calcio d'inizio, di seguito le formazioni ufficiali del match. . Classico 4-3-3 di rito per Valverde, che non si discosta dal proprio undicitipo e sceglie Dembele in attacco, esordio dal primo minuto con Deulofeu che scivola in panchina. . . Insieme al francese ovviamente Messi e Suarez, con Rakitic, Busquets e Dignesta a centrocampo. Confermato anche Untiti al centro della difesa insieme a Piquet, mentre a destra gioca Semedo. Alba a sinistra e Ter Stegen in porta completano lo schieramento dei catalani. . . Barcellona, 4-3-3, Ter Stegen, Semedo, Piquet, Untiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suarez, Dembele, Ol. Valverde. . . Allegri risponde con due scelte un po' a sorpresa, De Sciglio terzina destro titolare, con Barzagli al centro insieme a Benatia e Rugani in panchina, e Bentancur nel trio di centrocampo con Matuidi e Pianic. Luruguaggio è preferito Asturaro. . . La linea difensiva davanti a Buffon è completata da Alex Sandro, mentre in attacco a comporre il tridente ci sono Douglas Costa, Dybala e Higuain. . . Juventus, 4-3-3, Buffon, De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Alexandro, Bentancur, Pianic, Matuidi, Dybala, Higuain, Douglas Costa, Ol. Allegri. .